Ciao a tutti e ben ritrovati con le video recensioni di Bytecno. Vi siamo mancati? Beh, stavamo preparando per voi delle grandi novità per questo 2016. Infatti ripartiamo davvero la grande e lo facciamo presentandovi il P8 Max, un phablet da 6.8 pollici in versione gold. Scopriamolo insieme! Come sempre Huawei ci sorprende con i suoi packaging davvero unici. La confezione davvero ben curata. Sfiliamo dall'involucro di cartone. Nel primo pacchetto, quello più sottile, troviamo una flip cover protettiva per il nostro P8 Max. Ve la mostro. Come vedete è una soluzione anche piuttosto vintage. Nell'altra scatola invece apriamo il coperchio di plastica semitrasparente ed estraiamo il nostro P8 Max. La cura dei particolari come sempre è eccellente. Leviamo la cornicetta di plastica in modo da poter estrarre le due scatole di cartone al suo interno. In una troviamo come sempre la manualistica e il certificato di garanzia. Nell'altra troviamo invece le cuffiette. Come sempre vi ricordo che sono veramente molto belle. Poi ovviamente troviamo il cavo micro USB, un caricatore da 2A e il pin per poter estrarre i due slot per la micro SIM e la micro SD. Guardiamo un po' le dimensioni. Sono di 182.7 x 93 x 6.8 mm con un peso davvero notevole, ovvero 228 grammi. Lo schermo è da 6.8 pollici, FHD e LTPS da 1920 x 1080 pixel. Sul retro troviamo la fotocamera da 13 megapixel con autofocus e doppio LED flash. E come potete vedere non risultano sporgenze. In basso invece troviamo microfono primario e cassa audio. A questo punto ci spostiamo sul lato sinistro. Secondo microfono per la riduzione del rumore che potete trovare qui in alto. Sul lato destro invece pulsante di accensione e spegnimento. Incastonato come vedete in questa piccola rientranza. E bilancele del volume. Poco più in basso invece troviamo il primo slot per la micro SIM. Il secondo slot per la seconda micro SIM o per la micro SD. In alto invece jack audio per le cuffie e connettore micro USB. E infine davanti fotocamera da 5 megapixel, sensori di luminosità e nel mezzo troviamo la nostra cassa auricolare. Il P8 Max ci offre un processore ai silicon Kirin 64 bit octa core. Come potete vedere molto fluido. 3 GB infatti di RAM. e presenta anche 64 GB di memoria interna espandibile però tramite micro SD come abbiamo visto. Batteria, reggetevi forte, da 4360 mAh non estraibile. Che però vedremo più avanti. Il P8 Max monta Android 5.0 Lollipop con un'interfaccia Emotion UI 3.1. Molto semplice ed accessibile, altamente modificato da parte del produttore però. Sono state aggiunte molte gesture e scorciatoie. La potenza del processore si fa notare permettendo una fluidità notevole, come vi dicevo. Una gestione delle applicazioni senza problemi in modalità multitasking. E una navigazione browser rapida e piacevole. In questo caso infatti andiamo a visitare il nostro sito bytecno.it. Come potete vedere sia nei colori che nella velocità risulta veramente molto fruibile. Anche la riproduzione, tra l'altro audio-video, è particolarmente performante. Associata ovviamente a un display davvero luminoso. A questo punto andiamo a vedere la nostra fotocamera che come vi dicevo è da 13 megapixel con flash LED dual tone. Per prima cosa proviamo un paio di esempi. Proviamo a fotografare ad esempio questa matita. In modo da mostrarvi l'entità dello scatto. Tra le funzioni della fotocamera ne troviamo parecchie. Tra queste funzione bellezza per migliorare le foto, soprattutto dal punto di vista dei selfie per il viso. La funzione light painting per poter disegnare con la luce, una funzione introdotta da Huawei. Qui potete trovare vari esempi. Tornando indietro troviamo oltre alla modalità scatto semplice e alla funzione video anche la modalità timelapse. Andiamo a questo punto a sbirciare tra le impostazioni della fotocamera. Troviamo la possibilità di scattare foto panoramiche. Ovviamente la modalità scatto notturno. Foto in HDR. Foto in rapida sequenza per scegliere quella migliore. Foto con filigrana. E infine una cosa davvero interessante. La modalità all focus. Questa modalità, come abbiamo già visto in alcune recensioni, ci permette di non prestare troppa attenzione su quale punto dell'immagine mettere a fuoco. Sarà possibile scegliere successivamente l'area di messa a fuoco semplicemente toccando il punto desiderato. Nessuna paura quindi per foto non a fuoco. Con questo sistema portiamo sempre a casa il risultato. E poi c'è la batteria. È da 4360 mAh e non estraibile. Anche con un utilizzo davvero intensivo è capace di portarci fino a sera. Sarà impossibile quindi rimanere a piedi ragazzi. In ogni caso esiste il risparmio energetico intelligente che però limita un pochino la CPU. In conclusione possiamo dire che il Huawei P8 Max è sicuramente un phablet di fascia alta, anche se per le dimensioni possiamo quasi definirlo un piccolo tablet. Ha prestazioni di tutto rispetto e questo lo pone ai vertici della categoria. Velocità del processore, RAM da 3 GB, schermo ampio e batteria. Questi sono sicuramente i suoi punti di forza. Io come sempre vi invito a scriverci le vostre domande e le vostre impressioni qui sotto. Altrimenti per acquistarlo cliccate sul link in sovraimpressione. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!